Ma ciao splendori! Hola chiche, hola chichi Ciao belle, ciao belli Come va? Allora Oggi c'è un giorno libero Allora stamani sono molto agitata Ve lo dico già da subito E Siccome c'ho da andare in posta a mettere soldi nella Tarta Perché io c'ho il banco Il libretto postale come le persone anziane Mi dona sistemate e ho detto Faccio un get ready con loro Anche perché chi mi segue su Instagram E ve lo lascio qui Camillina Melanesi Se me lo ricordo, spero di sì Vi ho già fatto vedere cosa ho preso Ed ho preso un altro lip Quelli cioccolata Che naturalmente ho lasciato là Dovrebbe averci un minuto neanche a caricare questo video Che sono tre giorni che è in carica Stamani l'ho mangiato i quelli della Fim Ammorsi Quindi cominciamo Niente di esagerato Allora mi sono data la cremina Ecce, ecce, ecce Non so se vi ricordate che tempo fa Comprai questo spruzzino Che sembra lacca Allo stesso odore della lacca Quindi è pessimo Pagato poco, una miseria Io me lo do nelle mani Perché darselo Cioè, è lacca pura La lacca che voi vi date nei apelli Ha lo stesso odore di questo Ora io, visto che andavo a Costalpino Mi volevo fare pure una lampada Però, niente A parte che questo computer Continua a non andare Meno male mi va Quello lì della B Perché l'avevo caricato uno sul computer Uno è Praticamente Ora oggi ha detto Dovrebbero risolvere la questione Ma so delle merde Perché loro se ne approfittano, no? Perché se uno non se ne ha Lo sapete Pippo Quante volte ha dovuto chiamare Noi prima non mi ricordo cosa ci sapeva Fatto sta che andava benissimo Cioè, il collegamento c'era sempre Io per caricare un video ci mettevo quasi un giorno neanche Fatevi conto che questo video è Tre fottuti giorni Tre ragazze Che è in carica E non solo è tre giorni che è in carica Siccome è tre giorni che è in carica Ridillo Camilla Ma pure Praticamente Ha mangiato Alla fine non ce l'ha fatta Non so per quale motivo Se si è scollegato E quindi niente Si è ripartito dal capo Pessima è questa cosa Più che altro perché Io Cerco di mettervi video Vedi Pippo mi dà Impossibile raggiungere il sito Comunque oggi dovrebbero risolvere Perché veramente se no Io poi mi incazzo Come una iene E poi quando mi incazzo Ebbene fammi incazzare Io so buona e cara So un agnellino Veramente Ma quando mi incazzo Come il mio babbo Mi si spenge il lume Il mio babbo Da piccina una volta Manca poi mi manda Il pronto soccorso Da quante me le ha date Gli si è spento il lume Cioè purtroppo Se ne devi mettere mille Nel capo E a me sta cosa Mi sta proprio sulle pagine Però Diglielo Agamigiaro Tu cazzo Avete ragione Perché sono tre minuti Per l'ennesima volta Di niente Cominciamo Una cosa veloce Allora Mi volevo fare un bel trucco Strong Però Non lo faccio Quindi oggi vi faccio vedere Come faccio Tutte mi avete detto Come era bella sta base Come è bella sta base Vi faccio vedere Come faccio questa base E oggi pomeriggio Vi faccio un bel trucco Strong Sul rosa Lo voglio fare Perché ho la maglina rosa Dunque cominciamo Allora io Vi faccio vedere Quello che usavo Ultimamente Perché ultimamente Essendo parecchio caldo Ragazzi Più prodotti Io specialmente Con il lavoro che facevo Andavo poi a accusarmi così La divisa diventava nera Allora Sempre il top del top Il fondotinta Della color pop Figliole È allucinante Mi voglio mettere Le lenti a contatto Aspettate Queste sono quelle Di twilight Le lenti che vi avevo Già fatto vedere Un botto di tempo fa So pinky Su pinky paradise Le amo E ora mi voglio Perché ieri Mi sono rivista twilight Per caso L'hanno dato su sky E vi giuro Io adoro twilight Uno per la storia D'amore intensissima E bellissima E E poi mi carbo Quando se le danno So Mi carbo Anzi voglio fare Qualcosa tipo Io facevo Ai suoi tempi Kickboxing Vorrei vedere Di fare qualcosa Di Un po' Che mi sfoga Ora voglio prendere Quelle rosse Perché sono troppo belle Ma io ci vuoi giro Quando avete capito Questo correttore È Mitico bimbe Mitico Va detto Allora Innanzitutto È molto coprente Ha una coprenza Veramente molto elevata Allora Io non ho quello Di tart Però ho visto Che va tantissimo Comunque Ora scusate Perché devo vedere Quanto mi hanno pagato Devo controllare Perché devo vedere Quando mi pagheranno Il tfr Ora vi spiego Anche questa Dio E Non mi ricordo Ah Perché praticamente Pensate la mia testa Ora Sto mettendo da parte I soldi Ci spormo Quando non sono troppi Cioè io sto mettendo Da parte una balla Di soldi E che ne so Prelevo 50 euro Perché comunque Mi servono No Mi abbassano i soldi Nel libretto Cioè impazzita Se davvero Avessi messo da parte Tutto quello Che l'ho sprecato Cioè Figliole Io ci compravo Una barca Una villa Voi non avete idea Io nei 12 anni Vabbè Anche prima Perché comunque Ma molto meno Quindi Più che altro Nei 12 anni Quanti soldi Ho buttato Figliole Voi non avete idea Davvero di un Una persona Con una dipendenza Quanti soldi Allora Naturalmente Il mio Amatissimo Ardegot E insieme All'Ardegot Ci metto Questa cipria Qualche volta In polvere Libera Che se non mi sbaglio Era sempre di È un consiglio Allora Queste ciprie qui Sono glitterate Leggermente Se voi avete Un minerale Che non è Il mio È luminoso E non ha bisogno Per illuminare Vanno mischiate E viene Fantastico Ora vedrete Che pelle Mi viene Io tendenzialmente Lo do con Questo piatto Perché Allora Questo è di neve Ma Uno piatto Che è così morbido Riesce comunque A stendere Il prodotto Minerale In maniera Fantastica E ci sono I prodotti Comunque Della Kiko Voi lo sa Chi mi segue Da anni Lo sa Io D'estate Da qualche anno A questa parte Ve l'ho detto Perché Prima no D'estate Uso soltanto I prodotti In polvere No Perché Dipeso Da tante cose Ora veramente Sudo Tantissimo E prima No Quindi Prima non avevo Bisogno Di un prodotto In polvere Andava benissimo Un fondotinta Leggero Leggermente Più leggero Ma Vedete già qui Come si illumina Ma andava benissimo Chi c'è La zoccoletta Mi amor Allora Fatto ciò Fatto ciò Vado A illuminare Ulteriormente Da scurire Perché vedete Un po' qua Sempre con Il bijou Il bourgeois Il bijou Il bijou Do stu cazzo Con il bourgeois Che lo faccio Con un pennello Spavaranzo Che può essere Oh mio dio Cade tutto Che può essere Io uso questo E mi ci trovo Da dio Anche questo Questo è della Revolution Makeup Ed è un pennello Spavaranzo Perché questo Non Non mi piace Usare altri Perché comunque Questo è perfetto Allora Le sopracciglia Ultimamente Me le faccio Un po' meglio Però Siccome ho i capelli Scuri E non più rossi Come quando usavo Questa Ed era perfetta Ora mi ci vuole Posso usare questo Ma se ci metto sopra Una polvere Un po' più scura Meglio Perché questo Tende ad essere Parecchio 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 Chiaro Per i capelli Che Allora Me le faccio Ve le faccio vedere una Perché poi ci impiego Un sacco di tempo Se no E non voglio Che questo video diventi E non voglio Che i video miei Allora Tante di voi mi diranno No camie Non voglio Che i miei video Siano così lunghi Vi spiego perché Allora io ora C'ho l'analyze C'è sempre stato Ma io non lo guardavo Siccome ora Lo guardo Allora Vado Leggermente Sopra la mia ciglia Naturale Niente di più Perché Qualche volta Le faccio troppo grosse E sono pure brutte Ma È un'abitudine Poi non c'ho voglia Di Ecco Fatto ciò Non sto La sfumo davanti Perché davanti Va sempre sfumata Sempre Questa è secondo me La ciglia nel viso Cambia tutto Praticamente tutto Ecco È perfetta così Andrebbe fatto pure una riga Io di solito favo al di sotto E poi Vedete Fantastica E non sto neanche A mettere il correttore Visto a dire Chi è Mannaggia Me ne sono dimenticata Che cazzo Mi dicevo Che vi dicevo Vabbè Che comunque Prima Non ci guardavo Ma le ciglia Fanno tantissimo E pensare Quanti anni Sono stata Con le ciglia Di merda Quando avevo 14 anni Ami tempi Che ci si faceva Le ciglia Strafine E purtroppo Io le ho tolte Per quello Perché Assondi fame Le fine Non c'è rimasto Pi' niente Però Sono convinta Che se le facessi Crescere In maniera giusta Sarebbero perfette Vabbè Fatto ciò Anche leggermente Un po' più qua Si può Vedete Io solitamente La porto anche Un po' più qua Perché più Più è sfumata La ciglia Più è bella Secondo me Sempre Secondo me Vedete Fanno impazzire Ok Ora Visto che vi ho detto Sono un po' più scura Io ci spiattello Un marrone scuro Che è questo Che solitamente Uso questo Vabbè Ora Ne potete usare mille Però ora Io uso questo Della Kiko Che era quello Che usavo No Va a finire Che questo Eppure troppo chiaro Aspetta Amiri È un'acida Allora Questa qui È una palettina Che ho preso Tempo fa Da eBay Pagata 1,50 euro Ed è così Non l'ho neanche Mai usata Ma mentre guardavo Dei colori E mi servivano Perché di solito Uso ste palette qui Per gli ombretti Da sopracciglia No Però qui non ce n'è Abbastanza scuro Lo vado a prendere Da di qua E quindi lo scurisco Un po' Allora Vado a prendere Questo qui Che è come vedete Quello un po' più scuro Diciamo quasi grigio E vediamo Perché vedete Allora Come colori Ci potremmo pure essere Ora vediamo la differenza Ci potremmo pure essere Qual è il discorso Che A me E sempre E solo A me Piace Una ciglia Più Vabbè Poi la sfumi da Dio Con l'ombretto Eccolo qua Allora Vedete quanto è più scura Forse pure troppo Però Per oggi Bombiamola così Ok Allora Allora È vero che nel make up Dovete seguire Delle regole No Comunque Cioè non è che Delle regole Però Anche troppo È venuta alta Qua giù Però Devo dire Che Ci sono delle regole Ok Allora Per esempio Tante di voi Mi dicono Cami Non ti mettere I I lip marroni Scuri Mettiteli È perché Ti fanno le labbra piccole Ragazze Lo so Che mi fanno le labbra piccole Ma a me piace così E quindi E quindi Io mi metto Ciò che mi piace Ciò che mi fa Star bene Capito Allora Di questa Non troverò mai Il link Perché è vecchissima Dunque Andiamo a fare Un po' di Contourings E questi sono Io uso Questo della Freedom Ora un pochino Invece Quello è un crema Perché Quello è un crema Lo uso A seconda A seconda Di come Mi girano Diciamola un po' Così Ok Io spero che In questo momento Faccio il video L'altro video Dovrebbe essere Pronto Voglio guardarci dopo Perché almeno poi Ok Finish Questo per me È il Makeup Ok Che facevo io Qual è il discorso Naturalmente Se avete qualche Magagna nel viso Allora A parte che sto usando L'olio della Quello Sbiancante Però quello Perfezionatore Della Che vi ho fatto Vedere L'altra volta Che ora Non mi viene Della Elisbeca Che devo dire Che adoro Però Non so se Veramente Affatto Se avete Se avete delle Magagne Mettete un po' Di correttore Come io l'ho messo Sotto le occhiaie Nelle magagnette Stop Questo è quello Questo è quello che io Faccio Perché Perché mettendo poi sopra Un Un prodotto In polvere Vi lascia la pelle Troppo più morbida Il fondo di Inta ragazze Vi copre troppo Cioè Allora Ora Il tempo È più È meno Peso Il caldo No Ed è quindi meglio Ma quando c'erano I caldi assurdi Noi Non potete Spiattellarvi In fondo di Inta Cioè Almeno È quello Che Foglio Ora Vi faccio Vedere Cosa Non è Questo Che sicuramente Quando metterò Questo video Quando sarò Già Vecchia Decrepita Perché qui Non carica Però oggi Mi fa Una Una mazzata Mi metto Questo Che in questi giorni Poi pigliare Quell'altra Perché Cioè Potete capire Quello Che non è Ok Guardate Allora Gli eccessi L'ho preso Dalla mia Amica Shigal I love you Amore Un post di facebook Di instagram Che ora vi metto Gli eccessi Fanno sempre male Ma mai eccedere Di illuminante Fa male Come di L'illuminante Potete eccedere Quanto vi pare Fantastico Allora Io l'ho leggermente Picchiettati È così Se gli do Di brutto Cioè A ragazzi Cioè Praticamente Quando Ora io andrò A piedi Non ho bisogno Del Del Giacchino Cosato Praticamente L'illuminante Che ho sul viso Sarà il mio Cosa per la strada Almeno mi vedono Allora Oh mamma santa Aspetta Detto ciò Vi faccio vedere Io Ultimamente Sto utilizzando Questo Che tutte Mi dite Cosa Cioè Perché ora Mi vorrei mettere Le ciglia finte Però so Che poi Foddanno E non me le metto Perché se poi Mi appiccio Tutto Vi faccio vedere Com'è questo E poi Bombasta Bombastic Bombasta Si è seccato Ed è molto Meglio Guardate Guardate già Adesso Allora È un ottimo Mascara Mi raccomando Me l'aveva detto Una ragazza Una cica Me l'aveva detto No? Io dissi Ma Vediamo E invece è vero Va fatto Seccare un po' Cioè Voi Quando lo comprate Non è così Anzi È un po' Più Troiaio Perché Vi Vi cosa Le ciglia Ve le Come si dice Ve le Agruma Ok? Ultimamente Mi sto accorgendo Che ce n'è tantissimi Di mascara Che fanno Questo verso Che appena aperti Si aggrumano E una volta Poi aperti E quindi Si siano un po' Seccati So spettacolari Questo è veramente Buono Allora Devo ancora Capire come usare Quello bianco Alla pesca L'allungante Anzi Quindi se qualcuno Di voi Sa Dirmi come Perché ve lo spiego Perché Praticamente Le fa molto lunghe Le sistema Da paura Mi viene Una voce strana Però Non lo so Però O ce lo dai subito E dandocelo subito Allora però Ci rimane un po' Di bianco Se lo fai seccare Non va bene Quindi Boh Non lo so Non sa C'ho Anzi Vi ripeto Se qualcuno Di voi lo sa Fatemelo Sapere Ok? Figliole Vai Finito Questa è la mia Base Ok? Poi vabbè Qualche volta Ci posso Spiattellare Un Per esempio L'Oreal Volume Millennium Anche questo Che è molto buono E le infoltisce Un po' Vai Fatto ciò Mi metto Quello che ho preso Stamani E poi si va Allora Stamani ho preso L'862 Ed è questo Colore mattone Che non somiglia Però Spero Vedete esatto Ora poi Ce lo swatcha Sulle mani A quello Della Kiko Le odio Perché ci mettano Le cose Antitaccheggio Che poi Purtroppo Quando le vai A togliere Ti sputtanano Il prodotto L'applicatore È fantastico Allora L'ho Pagato 9,90 Stamani Vedete Riesce a sistemare Che spettacolo Che spettacolo Che spettacolo Che cosa Che spettacolo Paragate Che šep Che 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 Grazie.